Decine di furti effettuati nei mesi scorsi ai danni dei distributori automatici di bevande e snacks collocati all'interno delle strutture dell'ospedale maggiore. Gli investigatori della sezione antirapine della squadra mobile sono riusciti a risalire al colpevole e ad arrestarlo. A finire in carcere un 35enne originario della Calabria ma residente a Parma, William Russo, questo il suo nome, dovrà rispondere del reato di furto aggravato e continuato. Il malvivente è stato incastrato dalle micro telecamere di sorveglianza che il titolare della ditta che si occupa della gestione dei distributori automatici al maggiore esasperato dei continui furti aveva fatto installare all'interno delle stesse macchinette come deterrente. Le microcamere si attivano solo all'apertura dello sportello e dunque riprendono o l'operatore che si occupa della manutenzione oppure chi ha forzato illecitamente il dispositivo di attivazione. Le immagini messe a disposizione degli uomini di Borgo della Posta ritraevano William Russo in azione. In alcuni casi aveva il volto parzialmente travisato ma era comunque riconoscibile, in altri aveva agito a volto scoperto. Il 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato in un quartiere della periferia cittadina e condotto dunque nel carcere di via Burla. Complessivamente il bottino, che aveva accumulato attraverso i numerosi furti e i distributori automatici, ammonta ad oltre 1000 euro.